Al via da ieri il bando comunale finalizzato all'assegnazione di oltre 2.700 nuovi loculi cimiteriali e di ben 31 cappelle gentilizie di nuova costruzione. Un servizio utile ed importante per l'intera comunità che rientra nell'ambito del project financing di ampliamento dello storico cimitero cittadino, così come chiarito ai nostri microfoni dal consigliere comunale con delega al cimitero e ai servizi cimiteriali Antonio D'Ambrosio. Un project financing che parte da lontano e che ha visto susseguirsi tre amministrazioni e nella fase conclusiva con l'amministrazione Mennella abbiamo limato gli ultimi dettagli per poter offrire questo servizio molto atteso e sentito da tutta la popolazione torrese, quale l'ampliamento del cimitero con la costruzione di 2.740 loculi, 31 cappelle gentilizie e 120 cellette cinerari a disposizione di tutta la cittadinanza. Termini, scadenze e procedure per i cittadini, come sarà possibile, dentro che tempi, esperire tutte le dovute documentazioni? Il bando è partito ieri 2 settembre, il termine ultimo è il 30 settembre alle ore 12.30. I cittadini interessati potranno inviare la loro domanda, la loro istanza attraverso il protocollo, l'indirizzo che potete trovare sul bando o a mano verso gli uffici, presso gli uffici della Salle o con una raccomandata con ricevuta di ritorno indicando sulla busta l'oggetto del bando. Non mancano utili consigli ed utili raccomandazioni, soprattutto nella fase di espletamento della procedura. Sì, il messaggio più che altro personale, vorrei invitare tutta la cittadinanza, in particolare gli anziani, che sono i soggetti un po' più deboli e fragili, se si dovessero avvicinare delle persone, delle società, delle agenzie che vogliono aiutare a compilare la domanda, anche chiedendo dei soldi in cambio o promettendo di poter dare la possibilità di far assegnare il loculo a queste persone, invito a denunciare immediatamente tutto alle forze dell'ordine, perché la gratuatoria sarà pubblica, c'è un criterio stabilito nel bando con dei punteggi e le tariffe, le tabelle, dei costi sono già stati approvati precedentemente nella scorsa amministrazione, quindi se, ripeto, qualche persona chiede dei soldi in cambio per l'assegnazione, vi invito a denunciare tutto alle forze dell'ordine. Quanti interessati, dunque, potranno scaricare il bando e leggere le dovute procedure direttamente dal sito del comune di Torre del Greco, sezione Urpinforma.